Il giudizio di Geffini è inequivocabile, il pubblico è stufo di Beatrice. Per favore, batti le mani contro di lei. Nel corso della recente puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha dovuto affrontare un nuovo scontro con Perla Vattiero, la quale ha criticato ripetutamente la sua coinquilina nei giorni precedenti. All'interno della casa, i detrattori dell'attrice hanno visto nell'occasione la possibilità di prendersi una pausa, alimentando la convinzione che il pubblico potesse finalmente mostrare disapprovazione. Il verdetto di alcuni Geffini è emerso al termine della puntata, quando Letizia Petris, conversando con Paolo Masella, Perla Vattiero e Massimiliano Varrese, ha notato gli applausi del pubblico in studio. Geffini ha sottolineato che era la prima volta che il pubblico applaudiva contro Beatrice, anziché per lei. La constatazione ha destato l'attenzione dei presenti, evidenziando un cambio di vento nei sentimenti del pubblico. I ragazzi, ignari della presenza di tifosi calabresi di Giuseppe Garibaldi e di numerosi sostenitori di Perla, hanno riflettuto sul cambiamento di prospettiva. Paolo ha confermato, mentre Massimiliano ha ribadito la sua previsione sulla fine del regno di Beatrice, suggerendo che la noia del pubblico sia la causa principale. Ha invitato l'attore di Luca Era Gay a proporre una telefonata con Beatrice, se veramente nutre tale convinzione. Anita Olivieri, in confessionale, ha condiviso la sua percezione, affermando che Perla potrebbe essere il tallone d'Achille di Beatrice. Ha ammesso la difficoltà di affrontare conversazioni con Perla, ritenendo che quest'ultima sia la persona adatta per sottrarle il primato. In conclusione, nonostante l'amore del pubblico per Perla, Beatrice sembra mantenere il suo consenso, con il pubblico generalista che le è ancora favorevole. Il clima in casa si fa sempre più teso, mentre gli applausi del pubblico continuano a riflettere le dinamiche in evoluzione del Grande Fratello. Cancelletto Grande Fratello